Salve gente, qui parla Otakumen! Continuiamo con Like a Dragon Infinite Wealth! E' stato un po' di mia vita. C'era una casa? D'accordo, è una bella. E' una bella. E' un po' di loro. C'è un po' di 6 mesi. C'è un po' di casa. Un po' di policia. Un po' di policia? Ma con quale Così appunto Quali erano le prove Vabbè sì la polizia Posso fare quel cacchio che vogliono Cinque anni di prigione Perché l'hai incastrato Madonna santa Ma Sì insomma la polizia Non serve assolutamente a niente Questo spiega anche molte cose Tipo l'atteggiamento di prima del poliziotto Che ha arrestato Ichiban e compagna bella Oh no Colpa mia Colpa della polizia E dei Barracuda È sparita Se n'è andata Siamo pure a metà Porca vacca Che altro gli è successo Ah Vendetta Vendetta Sì E' una cosa che si trascina presso anche adesso, non riesce mai a premere il grilletto. Quel può darsi potevi evitartelo, Kiryu, eh? Non è vero, non è vero. Oh, se non danno un backstory tragico a tutti quanti i membri del gruppo... ...in generale, intendo, eh? Non sono più loro, cioè... ...di quegli sviluppatori. Per aver capito ho capito. E mi fa soltanto incazzare di più nei confronti dei Barracuda. Minchia, non pensavo che le Hawaii fossero messe così male. O almeno uno, non uno. Beh, c'è da dire però che Ichiban ha una buona parlantina, eh. Sa essere convincente quando vuole. Adesso è nel team, non penso possa o voglia. Ma... Quindi comunque gli da la possibilità di scegliere Bravo Ichiban Vabbè è vero la barriera linguistica Me ne dimentico sempre Un po' meno quando tutti quanti gli NPC cominciano a parlare giapponese Anche se nessuno si pone domande sul perché parlano giapponese Questo non riuscirà a sistemare le cose Comunque avrà la coscienza un pochino più a posto Più serena Come due pessimi venditori Almeno sono due venditori onesti Oh Kiryu ormai è diventato parte integrante del team Con una facilità tale Mangine per uccelli L'ho detto prima non si dà da mangiare ai piccioni da queste parti Altrimenti che si ottiene piccioni grassi hawaiiani Oh cavolo sono belle le hawaii Sì solitamente dovrebbero essere un pochino più intrafficate le strade Cioè questo traffico non esistente praticamente Esiste soltanto a Kamurocho L'hanno importato la mancanza di traffico praticamente Ma sparano eh Aspetta un attimo Comunque anche in macchina Macchina dorata che tra l'altro adesso è appena sparita Bianciulato la macchina eh Non bisogna mai lasciare il tutto incostodito Quanti soldoni Trentamila Quasi Me ne aspettavo in realtà di più Ho visto la macchinona che guidavano ma Evidentemente è tutta scena E senza pugnale Oh anche qua Magima sarebbe fiero Sono tutte quante Tecniche relative alle armi Quelle di Kiryu Cioè abbastanza senso eh Cioè di suo che cos'è che ha Al di fuori appunto delle armi Cioè avrebbe toi il Il Tiger Drop Credo che in italiano l'abbiano tradotto con Occhio della Tigre Che è il Contracolpo perfetto Il Non è proprio un Perry Ma è tipo un Un pugno dato all'ultimo secondo Mentre ti stanno attaccando Che è la tecnica più potente di cui dispone Contro la macchina Sì Ma la macchina è un danno critico direi Cento Cento in un singolo colpo Che Che botta di culo che fosse proprio lì in quel momento Eh Temo che il cane non possa rispondere con una loa Vabbè siamo nella zona dei Barracuda Salve Ciao ragazzi Sono qui per Per farmi una passeggiata nei bassi fondi Downgrade Si sono denudati Cane bastonato Dovrei dirlo con Con il Locendo What? Cosa 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 vi ha fatto attaccare il raffreddore? Il muro? Oh ecco Il raffreddore uccide ancora Ed è soltanto Raffreddore Molto stereotipato Sembra più una tavola calda western E voci corrono in fretta eh Si capisce che è un po' di buono solo dal fatto che è molto magro Tutti quanti i personaggi molto magri O almeno il L'85% Diciamo In Yakuza sono sempre dei gran bastardi Dico proprio persone secchette Così Non c'è Non c'è Maggio con quel mento affilato, eh? Cosa è? Ichiba gli farà una falsa... una falsa minaccia? Ah, ecco perché voleva 50.000 dollari, ma guarda un po' dei casi! Quale sarà il suo metodo adesso per contrattare? Oh, oh! Così? Non abbiamo quei soldi tanto, è inutile buttare le pistole. Mi fai un cazzo, lui c'è punto alla pistola. Oh! Bella pensata, Kiryu. No! Fatica sprecata! E' la voce dell'esperienza questa, Cerco Piteco. Tomizawa, non poteva andare diversamente in fin dei conti. Sì, non ha assolutamente detto questo in inglese, ma tutto considerato questo in inglese è completamente rotto, quindi accettiamo questi sottotitoli per com'erano. Allora, Roman è il boss di oggi, ok? Sì, allora andiamo di colpo transatlantico, oppure... Facciamo un po' così, vediamo un po' se riesco a beccare quello che è dietro... E non vado a sbattere contro niente... CARICA! E' proprio quello che voglio fare. E abbiamo già, non dico dimezzato, ma quasi le loro fila. Non ha ancora un'alterazione, però intanto posso disgregare la difesa con un festo. Tre colpi, ok. Grazie muro, eh. Anzi, grazie Lakitu per aver fatto una bella ripresa da dietro al muro, in modo tale da non farmi vedere un corno di nulla. Vediamo un po'. Quanto mi costerebbero i best amici? Un po' troppo. Diciamo che sono ancora... Troppo... Povero. Dai, un bel attacco alla schiena. Oh! Ecco, metà vita. Oh! No signore! Gli altri stanno a guardare nel mentre? Spero ti faccia un gran male. Elbow drop! Uhuhuhu! Dietro il collo! Bella mossa Ichiban! Giustizia urbana. Oh, madonna santa! Aio, aio! Au, au, au! E' già strano che non ci abbia inflitto sanguinamento. Meno male che ho usato difesa plus, insomma. Allora, spezza una scella. Avete effetti dell'arma? Quest'arma? Non so se ha effetti, quindi... Ancora scossa elettrica. Tanto dovrebbe funzionare da qua. Zundara fatto in casa! Ho finito i colpi... Magici, diciamo. Le tecniche speciali. Uno, due, tre... Non è che rimbalzando... Oh! Se rimbalza lo colpisce ugualmente. That's nice. Very nice. Tomizawa, te sei l'addetto alla batteria oggi. Suona! Zacchete! Questo è per te, Majima, dovunque tu sia. Puff! Punt! Ma dai, Tomizawa! Wow! Per un pelo proprio. Eh, vabbè, dai. Eh, vabbè, dai. Lo stiamo diventando però, dai. Vedi? Già eravate amici per lui. In che stato sono? Ah, i capelli! Non vuol perdere i capelli, vero? Ricordavo che ero un po' fissato. Con che non ce l'hanno. Beh, con la frequenza con cui ti sparano... Non c'è da sorprendersi. Mi piace comunque che davvero Kiryu si sia ammorbidito così. Un tempo era molto... era troppo serioso. Qui invece vediamo un range di emozioni anche diverso durante le cutscene. Più spesso, quantomeno. Ah, sì, allora. Gran bella risposta. Ah... Sì, allora. Eh però C'ha anche le sue ragioni Da essere incazzato Sai com'è Come possono fidarsi Di un tizio del genere Comunque Cioè lo pestano Adesso fai come diciamo noi Sì ok Potrebbe andare alla stazione Mandare un plotone Di poliziotti Che cacchio ne so Ma Beh Beh lui non sa quanto possa essere Pericoloso Kiryu Noi che lo conosciamo da tempo Sì Calma Ecco ad esempio Questo potrebbe essere una trappola Sì Se sta al gioco E mantiene i patti Si intende Ah per lo streaking Di Diciban Presumo Così almeno Siamo Abbiamo rispettato la legge In un certo modo Mille topi per Noi che cacchio ne so Noi che cacchio ne so Potremmo essere un nuovo pubblico